Avevano messo a segno in tutto il Valdarno e Aritino una lunga scea di truffe per falsi contratti per l'energia elettrica, con tanto di firme false. Adesso la banda è stata fermata dai carabinieri di Terra Nuova Bracciolini. Si tratta di due pregiudicati italiani ed un cittadino marocchino, anche lui con precedenti penali. Le indagini dei militari erano partite dopo le numerose truffe che si erano tutte consumate negli ultimi mesi del 2018. I tre infatti compilavano le false proposte di contratto per forniture di gas e luce, sostituendosi a dignare vittime. Gli utenti, così a loro completa insaputa, si vedevano assegnare un nuovo gestore, senza aver però mai acconsentito o firmato nulla. I nuovi contratti riportavano tutti firme false, come falsi erano gli indirizzi di residenza e gli estremi dei documenti di identità. Adesso per i tre è scattata la denuncia per i reati di sostituzione di persona, truffa e di falsità materiale. Altre truffe negli ultimi mesi si erano consumate anche in tutto il territorio provinciale e aretino. A mettere in guardia le potenziali vittime contro i falsi tecnici è stata così la stessa Enel, dopo alcune segnalazioni di tentativi di raggiri con una serie di consigli utili. Enel ricorda così che dal 1 giugno 2017 non effettua più chiamate per acquisire nuovi clienti con proposte commerciali via telefono. Per quanto riguarda invece il porta a porta, l'azienda ha ricordato che chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel Energia deve essere munito di un tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento. L'azienda infine ricorda che nessuno ha autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel. Maggiore